Era stata annunciata come una conferenza stampa per presentare le iniziative che si intendono mettere in campo per fermare il progetto della maietanol presso l'ex distilleria Cronion. In realtà è stata invece un'assemblea assai partecipata, quella di ieri sera in Sala Blasco, che ha visto associazioni professionali agricole, comitato di contrada piana scunchipani, agricoltori, produttori e residenti supportati da tecnici e avvocati, tornare a manifestare tutte le loro perplessità e paure rispetto ad un impianto che rischia di compromettere non solo l'agricoltura ma anche la salute pubblica. Chiedono in primo luogo che venga fatta chiarezza, visto che allo stato attuale nessuno ha messo in discussione o smentito la preoccupante relazione fornita dalla consulente nominata dal Comune, la professoressa Patrizia Livreri. Noi come agricoltori di Sciacca abbiamo lottato per portare avanti i nostri prodotti, le nicche di produzione, soprattutto il biologico, la DOP, la DOC e la contrada piana è il centro, il polmone di Sciacca dove c'è un'agricoltura molto rinomata e quindi si va a creare questo danno soprattutto alla nostra produzione portando poi del rischio sulla salute perché si parlava pure che ci sarà un rischio perché viene emanato il buturino quindi può attaccare poi gli animali, l'uomo, le piante, quindi ci sarà un rischio enorme su questo per quanto riguarda la produzione agricola. Quindi siccome noi abbiamo un dato molto sull'agricoltura, dove andiamo a portare avanti la nostra famiglia, come faremo a vivere? Un impianto industriale di una tale importanza ha ricevuto, e credo che sia questo il nodo di tutta la situazione, ha ricevuto la prima autorizzazione ambientale che è quella più importante, quella che valuta, descrive il processo dell'impianto, valuta i fumi, quindi le emissioni in atmosfera e quindi le potenziali ricadute per la salute, i sistemi di abbattimento di questi fumi, quindi come tutelare da queste operazioni industriali, questa autorizzazione ambientale è stata data senza che l'ufficio, che dovrebbe guardarsi queste carte, che l'ufficio territorio e ambiente, che è una costola della regione siciliana, se lo sia mai guardato, perché il parere è stato dato con il silenzio assenso. Ora che un impianto industriale di questa importanza possa operare, ottenere un'autorizzazione ambientale con il silenzio assenso, noi lo riteniamo un fatto estremamente grave. Il nostro scopo è quello di avere certezze, c'è una relazione della professoressa Livreri che è allarmante e preoccupante, parla di impianto con forte impatto ambientale, che verranno compromesse le produzioni agroalimentari del territorio, parla di titoli ambientali diversi da quelli concessi. A fronte di tutto questo, unitamente ai rilievi, alle osservazioni di carattere tecnico evidenziate dall'ingegnere Di Giovanna, e giuridico evidenziate tanto dall'Avvocato Palagonia quanto dalle organizzazioni sindacali, è doveroso avere una chiarezza su tutto l'iter procedimentale e soprattutto iniziare ad agire, iniziare ad agire perché il tempo passa e il tempo è deleterio per tutti. Tutto ciò che si è fatto finora è da quello che è stato evidenziato anche da parte dei consulenti che sono state nominate. Le notizie non sono buone e pertanto si chiede a questa istituzione, a questa commissione che è stata istituita presso la Regione che conclude i propri lavori e ci dia le notizie che ci permettono di capire se questa iniziativa sia buona per la contrata o possa creare, come ho detto Pocanze, pericolo per i cittadini. Tra qualche giorno ci sarà un ulteriore incontro e non si esclude una grande mobilitazione. Noi siamo alla ricerca della verità, non siamo contro qualcosa o qualcuno, ma se quell'impianto provocherà determinate cose che si paventano e che sono scritte, quell'impianto non va fatto. Venerdì prossimo avremo un incontro conclusivo dove tutti andremo a firmare un documento, dove tutti andremo a prendere le iniziative specifiche e puntuali per cercare di smuovere un po' questa macchina e cercare di capire effettivamente, noi non siamo alla ricerca di responsabilità, ma vogliamo arrivare a un punto concreto di verità, dove ognuno di noi sa che Sciacca si può vivere e continua a fare i propri investimenti per sé e per i propri figli.